Una sfida che pronuncia playoff tra le due potenze della Easter Conference e tra i due giocatori più in forma di questo momento. Vediamole insieme. Ciao a tutti, io sono Riccardo di DoppioDoppio e oggi siamo qui per analizzare la sfida tra Giannis e Durant, sfida che si è disputata ieri sera nell'NBA Sunday Night. A proposito, questa partita l'abbiamo vista ieri sera in live insieme su Twitch, DoppioDoppioTV, in cui abbiamo commentato e siamo stati insieme voi su Twitch per passare la domenica sera insieme. In descrizione ti lascio il link per non perdere nessuna delle prossime live. Vediamo insieme la partita. Già nella prima azione la sfida si accende, alle youp per Giannis Antetokounmpo che schiaccia in testa Kevin Durant. Si pronuncia già una bellissima partita. Il primo quarto però si può definire un dominio offensivo dei Nets. I Bucks infatti non riescono a limitare in difesa le scorribande di Durant e Irving e il primo quarto finisce 37-28. La musica nel secondo quarto cambia. La difesa di Milwaukee si fa molto più fisica e affidano l'attacco totalmente a Giannis. Il due volte MVP mostra i muscoli e alterna azioni di puramente strapotere fisico ad altre azioni di un'elevata intelligenza cestistica. Tiri dal midrange, triple battezzate in cui li lasciano almeno 3 metri di spazio. Azioni che mostrano ancora una volta il duro lavoro che Giannis fa durante la stagione, elevando sempre di più il suo gioco e se stesso. Dall'altra parte però c'è pur sempre Kevin Durant, uno dei migliori attaccanti se non il miglior attaccante della Lega. Milwaukee in difesa alternano PJ Tucker, Giannis e Middleton per cercare di limitare il suo potere offensivo. Il tabellino finale dice da solo il risultato. Nel secondo quarto anche i secondi violini entrano in gioco. Poi vabbè, chiamarli secondi violini è un parolone. Si trovano però pur sempre di fronte delle difese molto fisiche, che provocano di conseguenza tiri forzati e molti errori. Se questo video ti sta piacendo, io ti invito a lasciare un bel like, iscriverti al canale e lasciare magari anche la campanellina attiva, così da non perderti nessun prossimo video. Il terzo e il quarto quarto sono pura poesia. Da rivedere se non avete visto la partita, vi consiglio davvero almeno gli highlights da rivedere. Giannis è già a 30 punti a metà del terzo quarto. Impressionante. KD dall'altra parte con la sua eleganza continua a giganteggiare nella metà campo offensiva. Un KD comunque diverso da quello che fa 18 punti con 7 tiri. Infatti si prende molte più responsabilità. È lui infatti che regge il gioco e fa le letture offensive. Uno stile che pronuncia molto quello che vedremo da parte di KD ai playoff. Soprattutto in caso di assenza di Harden, rimaste i Vox anche per questa partita. Questo stile di gioco di Durant lo porta anche a forzare spesso in attacco e a fare delle scelte difensive non proprio corrette. Qualche sbavatura di troppo infatti, soprattutto a causa della difesa eccellente oserei dire di P.J. Tucker sul set di Brooklyn. Penso che quella di P.J. Tucker sia stata infatti una delle migliori difese che abbiamo visto su Kevin Durant in questa regular season. E sicuramente preannuncia molto una sfida ai playoff tra i due. Sempre se ovviamente riusciranno a sfidarsi alle final. Partita comunque equilibratissima, piena di botte e risposta fino alla fine. Non ho il tempo per farvi vedere tutte le azioni che vorrei. Infatti vi invito ancora una volta ad andare a riguardarla perché è davvero una delle più belle partite della regular season se non la più bella. Milwaukee a più 3, 4 secondi dalla fine. Steve Nash ovviamente chiama timeout e cerca di disegnare uno schema offensivo sulla rimessa. Secondo me lo schema offensivo non gli riesce benissimo. Ma guardate bene la difesa di P.J. Tucker su Durant. Assurda. Ovviamente palla KD però purtroppo la tripla finisce corta e finisce anche la partita. 117-114 per Miluoki. Il tabellino dice 49 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate per Gianni Santetogunpo. Condite con un 4 su 8 da 3. Per lui è il season high sia per le triple segnate, 4 infatti, sia per i punti segnati in questa season. 49 e anche la miglior prestazione offensiva fatta da un giocatore contro la difesa dei Brooklyn Nets. Dall'altra parte abbiamo 42 punti e 10 rimbalzi per KD che continua ad essere indifendibile per l'intera partita. I Bucks comunque si rivelano ancora una volta Jannis centrici. Ovviamente uno Jannis che domina e stradomina l'attacco. Ma ricordiamo che ai playoff le difese si adattano e delle prestazioni del genere per 7 gare sono poco sostenibili. Non sarà quindi una passeggiata rimanere sempre costante a questi livelli per Jannis. E i Bucks come sempre devono cercare un'alternativa per questo problema. Ieri sera su Twitch dicevo che secondo me questa gara è stata molto simile a una gara 1 di playoff. Infatti attacchi straordinari e le difese che ancora si devono studiare alla perfezione. Questa volta hanno vinto i Bucks. Reputo comunque questa partita una delle più belle in regular season. Anzi, penso sia stata la migliore in tutta la regular season di questa stagione. Domani sera in realtà ci sarà il rematch di questa partita. Sono molto curioso di vedere gli adattamenti difensivi e come andrà a finire ovviamente. Una serie tra le 7 probabilmente potremo vederla soltanto nella finale di conference. Staremo a vedere, sarebbe molto interessante comunque. Fateci sapere la vostra nei commenti. Io intanto vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Io vi invito mercoledì alle 21.30 su Twitch. Avremo un ospite. Ma per scoprire chi è l'ospite vi rimando all'Instagram in cui trovate tutte le nostre informazioni e tutto ciò che facciamo. Quindi mi raccomando per rimanere aggiornati seguiteci anche lì. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione e ciao a tutti i panchinari. Ciao a tutti i panciari.